Tecna Argilla spegne quest'anno 26 candeline, un appuntamento importante che ha saputo rinnovarsi nel tempo, crescere e diventare sempre più internazionale. E' cresciuta la qualità tecnica, sono cresciuti i contenuti tecnologici delle macchine, non poteva che crescere la fiera che le rappresenta meglio di tutte. La cosa che riteniamo importante, la più importante per questa manifestazione è essere riuscita a tenere il primato di fiera più importante al mondo in questo campo. Non ci sono altre fiere in Italia che possono darsi questo titolo, noi difendiamo e lavoriamo attivamente perché questo resti. Per ora ci stiamo riuscendo, questo attrae visitatori e fa per esempio di Tecna Argilla una delle fiere col tasso di internazionalità più alta delle fiere italiane che supera il 50% di visitatori non italiani. Questo significa che è una fiera interessante per una grande fetta di mercato.